Primo pomeriggio della prima domenica d'agosto, Bari semideserta, anche i locali sono chiusi ma c'è chi l'apprezza così, meno rumorosa e più accogliente. Il centro di Bari è quasi irriconoscibile, senza traffico, con tanto parcheggio e piuttosto silenziosa. Più bella del solito, sì. Perché? Si cammina, è libera. Trovare locali e bar aperti è difficile, molte attività commerciali solitamente aperte di domenica hanno le serrande abbassate. Per strada solo qualche turista che passeggia per le vie dello shopping, dove però i negozi di abbigliamento sono serrati. Tutto chiuso, non c'è movimento, non c'è vita. Vedo un po' di tristezza con sé, sinceramente. In giro molti extracomunitari, camerieri, collaboratori domestici, che si condono la domenica di riposo e qualche barese che apprezza la città senza caos e meno rumorosa. Abbiamo il lungomare, abbiamo le cose più belle, cioè la gente si è lontana da Bari, vuol dire che sbagliano tutti. C'è chi non vede l'ora che arrivi a agosto per riprendersi gli spazi della città e chi, per colpa della crisi, quest'anno le vacanze le fa qui. Adesso ci ritiriamo da mare, ho portato i bambini a mare, al canalone. Quindi la domenica d'agosto a Bari? Esatto. Qualcuno ne approfitta per una gita fuori porta da altre località della Puglia, come ha fatto questa comitiva di tranesi. Senza auto Bari vale la pena di essere visitata e vissuta a pieno. Gustarsi Bari in pieno centro è stupendo, la città è meravigliosa. Tranquilla, bellissima, libera, bella.